Grazie a tutti. 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 all'epoca che l'oratorio soltanto l'ho fatto, l'edito da Lombardo, perché l'oratorio ormai è un insieme di modelli di stare con i ragazzi che ovviamente hanno la base, un voler bene ai ragazzi, una centralità della comunità cristiana che li accoglie, un'attenzione ai diversi linguaggi educativi che ci sono e che quindi, come diranno, una base comune però rispondono proprio a territori diversi, questo la dice molto, la dice lunga sul futuro degli oratori in Italia, il cardenale questo giorno si scrive dicendo che gli oratori in Italia sono una primavera della nostra chiesa, ed è vero, ed è vero, ma sono una primavera anche perché fioriranno in modo diverso, a secondo dei posti e dei luoghi, Perugia dice che alla l'avanguardia è vero, ospita l'università statale a questo corso per gli oratori che è un unico in Italia, ma questo vale anche per altri territori, il senso dell'eppening è un chiuso esattamente quello di fare incontrare questa esperienza, non fare scontrare, non fare concorrenza, ma fare in modo che nasca anche all'interno dei nostri animatori questo senso di appartenenza, di scambio di esperienze, io sogno di la Brescia, che è la mia di oggi sì, partano degli animatori che condividano con Napoli, con Roma, con Perugia, con tutti gli oratori che ci sono un taglio delle esperienze, di scambio, di confronto e così avvenga. Se riusciamo a fare questo, creiamo una possibilità di una crescita ulteriore nel l'oratorio delle nostre diocesi e nella consapevolezza del bene che possono portare i nostri ragazzi. Non mi chiedo che invece, come dire, il capo all'interno della conferenza episcopale della pastoralio giovanile magari si può raccontare come l'oratorio e la pastoralio giovanile stanno viaggiando insieme. Grazie, visto i ringraziamenti di Suominenza e di Don Marco ovviamente per questa esperienza. Dunque, la pastoralio giovanile in Italia c'è l'attenzione che è accesa italiana dell'Italia alle nuove generazioni, non è nata oggi. La cosa, però, interessante è che mi sembra che sia succedendo qualche cosa possibile tra la pastoralio giovanile e il mondo degli oratori in questo senso. Prima vengono le esperienze, poi vengono le strutture. qualche volta si pensa il contrario, non anche dell'oratorio. Noi non abbiamo le strutture, quindi non possiamo fare, no. Cioè, la fede e l'esperienza della chiesa parte prima dallo stare insieme e da qualche insieme si vive. Cioè, appunto, il consegnarsi il senso dell'attività e il vivere insieme alla chiesa. E poi arrivano le organizzazioni di strutture. 20 anni fa nasceva il servizio, 10 anni fa circa nasceva il forum degli oratori. L'anno scorso è uscita la nota della conferenza episcopale che è il primo documento sull'oratorio. Come vanno insieme a pastorale giovanile e oratorio? Il discorso è abbastanza semplice, nel senso che l'oratorio è questa, come la diversità di Dupanava Don Marco, ha al fondo la stessa ispirazione. Accompagnare i piccoli, non lasciarli soli. C'è una condizione di fondo fortissima che non si diventa grande da solo, non si cresce da solo. L'oratorio è questa esperienza di cura e di accompagnamento che a un certo punto chiede restituzione. Cioè, come io ho ricevuto questa cura e questo accompagnamento, così poi a un certo punto la restituisco. Se è vero che abbiamo sempre un po' in Italia pensato alla pastorale giovanile come quel momento che raccoglie i giovani e forse l'esperienza più grande e più forte che viene in mente è la GMG, ma non è l'unica esperienza di pastorale giovanile, però è quella più significativa. Dall'altra parte l'oratorio richiama sia la vita dei più piccoli, penso proprio ai bambini, elementari e in mente. Ma penso anche e soprattutto la sfida su cui l'oratorio oggi è chiamato a muoversi, che è la sfida sugli adolescenti. Cioè, quella fascia d'età dove si smette di andare a catechismo, si finisce l'iniziazione cristiana con la celebrazione d'attresi, ma non si è ancora sufficientemente i grandi prodotti per altre esperienze. E poi il tempo di altri percorsi dove lo sport, la musica, il teatro, il pellegrinaggio di tiro, il campo scuola, l'uscita insieme, l'animazione della vita della comunità, raccolgono persone, famiglie e aprono a percorsi di vita interessante. Vorrei dimenticare che l'oratorio è uno dei luoghi, credo, in Italia, di integrazione più forte, più grande, tra chi vive da sempre in questo paese e chi ci arriva e chi è chiamato straniero, anche se poi in oratorio ormai cominciamo ad avere a che fare con stranieri di seconda e di terza generazione. Ecco, il discorso sarebbe molto lungo, io credo proprio in sintesi questo, perché la pastorale giovanile e l'oratorio stanno dicendo, stanno parlando dello stesso tema, stanno dicendo le stesse cose. L'oratorio è uno degli strumenti in Italia di pastorale giovanile, perché è molto diffuso, non è ancora così diffuso. Personamente io credo che sia l'opportunità più forte che noi abbiamo per accompagnare le giovani generazioni. Grazie Don Michele, grazie per gli interventi del Cardinale di Don Marco. Non so se ci sono domande, anche se i nostri ospiti sono stati molto esostiti, però volevo liberare il Cardinale, magari i colleghi che volessero approfondire. Mi ha ricevuto qualche domanda a Don Enes. C'è qualche collega che vuole domandare qualcosa? Sì. Buongiorno, Marcello Migliosi di Tep Channel. Buongiorno. Quello che noto drammaticamente vivendo la cronaca ogni giorno, la cronista di Nena purtroppo, vorrei tanto fare solo questo, ma non si può fare solo questo, c'è la cronaca, vedo tanta solitudine sociale, vedo bambini abbandonati, vedo bambini che restano nelle auto da genitori mentre i genitori spazzano droga. Ecco, io immagino che ci sia un segreto particolare, non lo so, negli oratori, perché mi viene fatto, lo dicevo prima con la collega, di ricordare un grande del caccio del passato, Gianni Greve che è uscito dal mio oratorio, quindi io voglio dire quanto si può fare per saldare questi buchi, queste falle della nostra società civile ed umana e qualche volta anche antropologica di fronte a queste malattie, questa malattia prevalentemente legata alla deriva e alla solitudine sociale. ma in parte voglio proprio ribadire perché l'oratorio permette di realizzare un collegamento tra scuola, società, istituzioni, famiglie e soprattutto anche con quelli che vengono da contatto. Noi siamo di fronte a delle difficoltà enormi, ma forse è il momento di rimboccarci ancora di più le maniche di quello che non abbia fatto e affrontare le difficoltà. Abbiamo gli strumenti, abbiamo la parola di Dio, abbiamo un Magistero della Chiesa molto forte, penso per esempio in questo momento all'insegnamento di Don Bosco. Non partì da una situazione più facile della nostra, più difficile, perché noi cominciamo a essere in tanti, lui era solo, si trovò con un folle di ragazzi affamati e prima di tutto gli dette da mangiare perché non si può parlare di Dio e di istruzione quando lo stomaco protesta. Avevano delle giubbe, dei pantaloni raccontano le stelle memorie miserabili, strappate e trovò subito un gruppo di donne che accomodarono i vestiti. E poi pensò a costruire un ambiente, non andò a costruire nella Torino bene perché nessuno per quei ragazzi gli avrebbe dato né in ambito civile ecclesiale qualche cosa. Aveva solo il cardinale di Torino, invece di Torino, che lo seguiva con molto affetto. Si accontentò di una bettola, di comprare una bettola dove andava la gente a giocare, a bestemmiare e bere il vino. Ed una casa di tolleranza che era vicina a quella bettola. Un coraggio da leone. Un prete che si mise contro mezza Torino per aver fatto questo gesto che nessuno capiva. Ma lui guardava grande, guardava lontano, aveva le antenne di Dio e sapeva dove doveva arrivare. E quando ormai vecchio, nel 1878, ha raccontato in uno dei primi convegni dei collaboratori tutta questa sua storia, ha detto delle cose da britto. Quanto ha camminato da solo? C'aveva solo pochissimi preti all'inizio. Oppure tutti noi in un certo momento hanno sentito il bisogno di collaborare. Era un prete che come Mosè non si fermava a guardare le cose che stanno intorno, ma aveva degli occhi con cui vedeva all'invisibile. Oggi dobbiamo essere in questo senso un pochino tutti più profeti. Dobbiamo avere degli occhi che vedono anche all'invisibile, che vedono anche quello che sta al di là del fenomeno. E il fenomeno è molto triste, è proprio come tu ce lo raccontavi prima. Anche Mosè aveva queste difficoltà, ma arrivò fino alla terra promessa. Guardare grande, guardare lontano, come ci dice anche il Papa. E permettetelo, non posso sognare anche lui, sognare un po' di più. E soprattutto, voglio dirlo alla generazione adulta da genitore in là, non spegniamo, non soffochiamo i sogni dei nostri ragazzi. Perché i nostri ragazzi, nonostante tutto, sono ancora capaci di sogni belli e di sogni grandi. Basta trovare il composto che gli aiuta a poterli realizzare. Grazie. Una cosa molto veloce. Don Marco ha spesso parlato dell'Ordoro come un prodotto del Made in Italy. Don Bosco, San Filippo Lero. E qui io mi domando se è un prodotto spontaneo, vedendo proprio un prodotto. Quasi sono l'Ordoro, ma voi lo sai, sì. Sì, è un bel diritto all'Ordoro, cioè è un'Italianità proprio, ma perché risponde molto anche alla dimensione di come la Chiesa concretamente in Italia si sviluppa. I campanelli, le situazioni di vicinanza, la gente, eccetera. Io non lo so se è asportabile. Io sulle cose asportabili, soprattutto da un po' di vista dei processi negativi, ci ho sempre qualche perplessità, perché mi piacerebbe più che l'idea sia forse asportabile e che ci fosse poi tanto scambio. Questo secondo me si può fare. Io lo percepirei come una sfida dei nostri oratori. Mi piacerebbe che gli oratori, mi piacerebbe, come dire, perché penso che sia anche un modo di rispondere alle sfide che abbiamo, cioè si pongano anche degli obiettivi missionari, degli obiettivi di condivisione con altri popoli, con altre situazioni, con altre realtà, perché forse il far entrare, penso a altri bambini che abbiamo visto stamattina, dentro della nostra dimensione anche di educazione dei ragazzi, tanta dimensione di povertà, forse ci aiuta esattamente anche a rispondere magicamente alla soluzione dei problemi che ci ci sono però in termini ecclesiali di una condivisione di costruzione di percorsi concreti che ci permettono esattamente di condividere. Quindi sì, è un'italianità che io giuro che diciamo un po' orgogliosi nel senso che, nel senso meno del termine, perché dice probabilmente anche un modello nostro ecclesiale e anche di vitalità della nostra dimensione ecclesiale che è bella, che è completamente vicino ai ragazzi e dice anche che quando facciamo così il doratorio è una spina all'interno della nostra comunità, nel senso che custodire dei posti in cui i ragazzi possono esprimere, dire lavoro, far crescere dentro, ci obbliga a cambiare continuamente, ma questo è il tempo. Un prete un po' matto di Firenze, che si chiamava Don Nesi, volle fare una scommessa, portare nelle periferie di Fortalesa l'esperienza di Don Giulio Facipeni, che aveva accolto più di mille orfani dopo la guerra, fece una cosa inconcepibile, aveva costruito la palestra per i ragazzi, poi il metodo scolastico era quello di Don Milano, allora aveva costruito una palestra dove c'era il chimpano di un tempio greco, per rimettere insieme la cultura di tutti i popoli del passato, le radici artiche eccetera. Poi c'era un sistema scolastico, diciamo così, molto attivo, poi c'erano i laboratori, poi c'era il coinvolgimento la sera delle famiglie eccetera. Don Nesi, senza accorgersi, aveva costruito un oratorio, certo poi con i segni dell'Europa, ma l'aveva perfettamente adattato alla realtà del Brasile e funzionava, penso che funzioni ancora, perché c'è ancora questa esperienza, grazie a Dio, della Chiesa Ferentina in Brasile. Io credo che noi, più che andare a proporre dei modelli che dobbiamo avere un grande rispetto per le culture, dobbiamo fare qualche cosa di esemplare che possa essere accolto, perché come diceva Benedetto XVI, il cristianesimo si propaga per attrazione. Se noi riusciamo a fare qualche cosa di molto bello, che vale da noi, per attrazione nella loro cultura può essere riproposto anche agli altri. Se pretendiamo di imporre qualche cosa, allora è finita, perché non rispettiamo né la libertà dei luoghi, né le culture. Grazie.